a cervi a cervi perché se è lunga alcune volte danno dove c'è la cassa finisce uno e non è ancora finito giornata bellissima per essere la prima uscita meravigliosa io sto sentiero se l'ho fatto l'ho fatto con sconfinando bellissimo siamo un po tanti non dovevamo essere ma tutti abbiamo voglia di fare l'avevo già fatto una volta e con la mia amica è bellissimo in compagnia poi ancora di più ecco non volevi buongiorno 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 facciamo un'intervista 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 sì sì per fare la ripresa poi vuoi che ne parliamo subito della quantità di denaro che dovete ci mando lì mando si mando lì diglielo un po' che sono di bocca di magra sono ligure diglielo non lo so mica ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.